Cassandra Clare, Anteprime 2011. La prima domanda, il tuo libro preferito? Bride and Prejudice, by Jane Austen. Il tuo personaggio letterario preferito? Sherlock Holmes, The Adventures of Sherlock Holmes. Il passaggio che più ti ha emozionato in un libro? Il primo libro che hai letto in assoluto? Come crei un personaggio? Io prendo un po' di pezzi da persone che conosco in reale vita e un po' di pezzi da caratteristiche che ho scelto e delle figure historiche. Io li prendo e li mixo e viene usato come un nuovo personaggio. E poi mi chiedo anche di quei personaggi in mente, mi chiedo molte domande per sapere che tipo di personaggio erano. Qualcosa sul prossimo libro che sta per uscire? I tuoi cinque libri preferiti per Donable? Non so come molti di questi saranno in italiano, ma per i miei libri preferiti sono Alice's Adventures in Wonderland. Absolutely. The one that I already mentioned was The Adventures of Sherlock Holmes, which is not just for children, but I think it's for everybody. One of my favorite books of recent years is, let me think, the, I can't remember, the Hugo Cabaret, I think it's called the, for us I think it is called The Inventions of Hugo Cabaret, which is both pictures and words and is very sophisticated. And I would also say, for us it's called The Hunger Games, the first book is The Hunger Games Trilogy. Grazie mille, thank you very much. Thank you. Grazie. Grazie mille, thank you very much. Grazie mille, thank you very much.